Scatti da Oscar per il calendario della polizia del 2015. A realizzarli è il direttore della fotografia Vittorio Storaro, premiato con la statuetta più ambita del cinema per Apocalypse Now, Reds e L'Ultimo Imperatore. Questa volta il maestro romano ha prestato il suo occhio e la sua sensibilità alle forze dell'ordine. Allora sono proprio partito da quelle che sono le arti. Le arti non intese soltanto dalla scultura oppure dall'arte della fotografia, cinematografia o della pittura, eccetera. Ma quello che è il significato latino, che sono le abilità. Allora ho pensato di poter fare un calendario che mostrava un pochino le arti della polizia di Stato. Per ogni mese queste abilità si mescolano con l'arte, la scultura, la filosofia. Per un calendario che anche quest'anno come tema portante però, la solidarietà. Dal 2001 sono stati raccolti infatti 1.887.000 euro di fondi in favore dell'Unicef. Quest'anno il progetto si concentra sull'emergenza umanitaria nella Repubblica del Centrafrica e andrà ad incrementare gli interventi per la fornitura di trattamenti e alimenti terapeutici e per l'educazione alle corrette pratiche di nutrizione di bambini e neonati.